Buongiorno, ci incontriamo nel video di oggi per parlare di un altro punto di agopuntura, il vescica biliare 30, Wang Tiao in lingua cinese. Questo agopunto si localizza alla congiunzione del terzo mediale e del terzo laterale di una linea ideale che congiunge il grande trocantere all'oiato del sacro. Ovviamente si localizza a coscia, flessa. Wang Tiao tradotto in latino diviene cardofemoralis, ovvero in italiano punto di equilibrio o perno del femore. Il nome punto indica l'applicazione terapeutica maggiore di questo agopunto, ovvero le malattie dell'articolazione coxofemorale. VB30 è anche un foramen copulo conventorium, appunto riunione tra il meridiano della vescica biliare e il meridiano della vescica urinaria. Una piccola strada di connettivo secondario riunisce i due punti VB30 a vescica urinaria 53. Ora vediamo le indicazioni cliniche per vescica biliare 30, almeno per come risultano da testi antichi. Questo agopunto sostiene e regola il chi nell'orbita funzionale fecato, disperde le malattie vento, drena le malattie umidità e migliora l'efficienza meridianica nell'arto inferiore. VB30 si utilizza ovviamente nella riabilitazione, dopo malattie vento, percussio. VB30 è utile anche nel trattamento del dolore alla coscia e nel dolore al ginocchio. Ovviamente VB30 è un punto chiave, un punto importante per trattare le malattie dell'anca e per trattare il dolore all'anca, ovvero la coxalgia. VB30 si utilizza anche per i gonfiori agli arti inferiori, per l'edema alle griglie. Si applica VB30 anche per un'escalation della precedente condizione, ovvero l'ulcerazione dell'arto inferiore in più punti. VB30 ha infine un'applicazione curiosa che lo descrive e lo rende importante, il trattamento della rosolia. Bene, con questo siamo alla fine del video di oggi. Lasciate una domanda o un commento, sarà a mia cura rispondere a tutti. Spero di vedervi presto ancora. Arrivederci!